Io raccolgo adesso le vostre domande quindi dobbiamo essere però abbastanza rapidi poi ci dobbiamo fare affrontare perché io ho detto Allora, raccolgo le domande se vi presentate col nome possiamo anche conoscere e molto rapidi le domande 5 minuti di domande poi nelle risposte che io darò le vostre domande eliminerò anche la mia visione anche la mia visione 10 anni